A proposito del viaggio per l'America, il nostro primo ministro ha avuto un'invitazione speciale per attendere la conferenza di Future of the Americas, una conferenza organizzata per la Clinton Foundation. E' un mandatario e commerciante che hanno riunito a parte di collaborazione dei paesi per l'America. Presente, tra l'altro, diversi empresari di Italia, di nostra regione, come il presidente di Colombia, vicepresidente di Panama, vicepresidente di Haiti e come orador principal, presidente, Bill Clinton. Un'conferenza di un gruppo limitato, una arrupa tauta di un suo digno representante. E' un'invitazione che si organiza la Clinton Foundation, che è stato un anno al Summit of the Americas, e che è stato un'invitazione speciale per l'Aprilità, anche in Panama. E' un'invitazione che si organiza la Clinton Foundation, un'invitazione che si organiza una attività di Future of the Americas, invitando diversi leader di paesi e persone del settore privato, per apportare e pensare, e pensare in quale direzione accionare necessario, e ci sono importanti per l'accezza di questa emisfera. E' un'invitazione che si organiza la Presidente anche a partecipare nel future of the Americas. E' un'invitazione che si organiza, e' un'invitazione che si organiza l'opportunità per l'networking. E' un'invitazione che si organiza l'invitazione con il Presidente Clinton, che è per conversare un rato con lui. E' un'invitazione che si organiza l'invitazione che si organiza l'invitazione con il future of the Americas, e per intercambiare di idee. E' un'invitazione che si organiza l'invitazione che si organiza l'invitazione con l'America Latina. E' un'invitazione che si organiza l'invitazione che si organiza l'invitazione che si organiza l'invitazione. e che si organiza l'invitazione con l'America Latina, per dare a dire che il problema non è messo, e soluzione non è messo. Un'invitazione che si organiza l'invitazione, che si organiza l'invitazione, e che si organiza l'invitazione che si organiza l'invitazione, come la ripete e mettere un'invitazione che si organiza l'invitazione che si organiza l'invitazione con l'invitazione. Solutionato che mi trova problemi con noi stanno sentendo. E questa è che ci sono i raggiamenti, le sono le best practices che sono i raggiamenti e sono i raggiamenti, i raggiamenti, e sono i raggiamenti, per non ripeter i raggiamenti per farlo, ma la possibilità di internazionare in ogni paese. Per questo non è beneficio che trova, ma la connessione anche per farlo, per realizzare un progetto che non comporta utile per i nostri paesi. Tutti sono sicure di importanza per partecipare, per il network e anche intercambio di idee. Manera già menzionare Aruba porta orgoglioso di nostre rappresentazioni. Il Presidente ha un buon papel per presentare le diverse aree che abbiamo in Aruba. Abbiamo un'idea innovativa e anche un'implementazione con un'unica tecnica. E' un'implementazione strana, ma è anche una generazione di energia alternativa. Aruba sta un paese che sta calando di lante. Non sta usando solar energy, wind energy, o anche waste energy. E' un'esperienza che noi abbiamo in questo paese, come per realizzare, per cominciare a moveare la transizione, è importante per sobrare un'aspetto che i paesi la sintonizzazione che hanno sentato il problema per pensare a tutti i utili all'unità. Quindi non è un'implementazione che gli utili all'unità come la visione dovrebberoare. Nessuno ha chiesto di altri paesi. Il almer è un campione di interno di green energy in quest'argomento all'unità di stimuare i nuovi ci, ci sta molto simplicando in questo paese. Ma questo è un'implementazione di altre paesi. sta crescendo economicamente buona, di perspectiva di un buon per il desarrollo nel prossimo 20 anni. E' una cosa che deve liberare, per esempio, di essere così, possibilità di andare a comportare, portare anche l'idea, con una roba per un ruolo, e talve, che ha benefici economiche. E' una cosa che è molto importante per essere presente e per partecipare a una sessione così.